Lea, 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 lea! Dopo il 1000, sono i lunghi. Dopo il 1000, sono i lunghi. Stramidonato. Arriva! Buon dici, peco quelle scarpine. E' più ampia. Bravo! Bravo! Primo, primo dal posto. Allora, lì. E' lì, i tivi campioni italiani. Bravo! Oh, piano, piano! Si gira ancora per attendere. Vuol dire che tra pochi...